Visita ieri dal sindaco di Ragusa Federico Piccito sulla setta del film La Mossa del Cavallo tratto dal romanzo di Andrea Camilleri dalla regia di Gianluca Maria Tavarelli prodotto dall'Opalomar. La troppa immattinata aveva girato alcune scene nella piazzetta sovrastante alla chiesa di Santa Maria delle Scale, location che come è noto si affaccia nello splendido scenario del quartiere barocco di Ibla. Il primo cittadino si è quindi soffermato brevemente per uno scambio di battuto con la regista Tavarelli, impegnato appunto nella realizzazione della nuova pellicola cinematografica che vede il protagonista Michele Riondino. Anche per questo nuovo lavoro ha dichiarato Piccito, la Palomar ha scelto come location per alcune scene del film suggestivi angoli del nostro territorio, in questo modo valorizzandolo ancora e facendo scoprire al grande pubblico un territorio quenta appunto di bleu, autentico giacimento culturale.